Si è riunita in prefettura a Taranto la Commissione per i pubblici spettacoli in relazione ai lavori che interesseranno lo stadio Erasmo Iacovone in vista dei giochi del Mediterraneo in programma ad agosto del 2026. Presenti tra gli altri rappresentanti di Questura, Comune, Asl, Coni, Vigili del Fuoco e alcuni tecnici e naturalmente la prefettura di Taranto. La Commissione ha preso in esame il cosiddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio. La valutazione preventiva e propedeutica per le procedure di gara si tratta di un appalto integrato, ovvero una progettazione esecutiva più i lavori. I vari enti coinvolti hanno fornito le proprie valutazioni a cui l'ufficio del commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese dovrà attenersi. Non è stata analizzata l'ipotesi di poter far giocare il Taranto Football Club durante i lavori in corso come ipotizzato nelle scorse settimane. Affinché questo avvenga sarà necessario realizzare un progetto specifico che preveda la concomitanza tra i lavori e il campionato. Questa è una ipotesi progettuale che dovrebbe essere già compresa nell'attuale PFTE, ovvero il progetto di fattibilità tecnico-economica.